Io sono Roberto Samuel e frequento il quinto anno dell'Issa Alessandra Volta di Pescara. L'idea di questo progetto nasce dal nostro professore Renzo Vellemona che è riuscito a trovare collaborazione nel nucleo artificieri della nostra regione Abruzzo e siamo riusciti con l'intervento di tutte le specializzazioni del nostro istituto, informatica, elettrotecnica, elettronica e meccanica a realizzare questo robot in grado di risolvere i loro problemi. Hai vinto le Olimpiadi di Robotica del Ministero. Raccontaci un po' come sono andate. Siamo sicuramente tutti contenti di farlo a nome di tutto il mio team per questa vittoria, anche perché eravamo molte squadre e siamo felici del nostro risultato. Excelente. Grazie.